Salute la luce! Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albaria, ascoltate! Un'ora, segnata dal destino, batte del cielo della nostra patria! L'ora delle decisioni irrevocabili! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vinceremo! E vinceremo! Per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo! Popolo italiano, corri alle armi! E dimostra la tua tenacia! Il tuo coraggio! Il tuo valore!